Ciao amici, ho in mano un pacchettino di Wuster. Voi sapete che la carne trasformata, i salumi, i Wuster, sono stati classificati come cancerogeni sicuri per gli esseri umani. Proprio per questo, visto che sono una grande golosa di Wuster, ovviamente solo di Wuster di altissima qualità, sin da bambina andavo in vacanze in Alto Adige e mangiavo solo quei Wuster, perché sono fatti con la carne dei masi, sono affumicati in modo particolare, sono straordinariamente buoni. Ho lavorato per riformulare questa ricetta, una ricetta che è nata anch'essa durante il periodo di stop del lockdown, un periodo in cui ho avuto più tempo per lavorare. Che lavoro c'è dietro questa straordinaria ricetta? Ecco, questo prodotto, anziché essere fatto con gli scarti di produzione, il Wuster viene fatto per riutilizzare tutto ciò che avanza nelle produzioni industriali, è fatto con l'onza di maiale magrissima, sgrassata, quindi quella carne che useremmo per fare una fettina o per fare un arrosto, e confesa di bovino. Carne che viene dai masi dell'Alpe di Siusi, una località che è stata nominata a patrimonio dell'UNESCO per la bellezza e per il modo in cui è rimasta incontaminata. Lì le mucche pascolano nei prati ricchi di fiori e le loro carni sono davvero fantastiche. Attraverso la collaborazione con Stefan, un produttore dell'Alpe di Siusi, siamo riusciti a ricreare questo prodotto, dove abbiamo sostituito la quasi totalità della parte grassa con verdure. Abbiamo inserito la barbabietola, abbiamo inserito il pomodoro, vedete che ha anche un po' di colore fucsia, questo è il colore della barbabietola, che ci serve in questo prodotto per eliminare del tutto nitrati e nitriti, che sono anch'essi classificati come cancerogeni e sono degli additivi che popolano tutto il mondo dei salumi e dei busser. Un prodotto che è anche ricco di fibre prebiotiche, fibre che aumentano le nostre difese immunitarie, fibre che rallentano in parte e impediscono l'assorbimento dei carboidrati e dei grassi, e fibre che migliorano la microflora intestinale, riequilibrandola. Quindi un prodotto che ha più o meno i grassi di un petto di pollo, le calorie più o meno che troviamo in un tristissimo petto di pollo, la migliore carne dei masi dell'altipiano dell'Osciliar, tante fibre e ci aiuta anche a tenere a bada il colesterolo, grazie al suo particolare profilo lipidico. Un'altra caratteristica importantissima è che questo è un prodotto con pochissimo sale, sale che è stato quasi del tutto sostituito da spezie e insaporitori naturali. Con però la comodità di un wusser, un qualcosa che si cucina in pochissimo tempo e che piace tantissimo anche ai bambini. Allora, la porzione consigliata sono due wusser, vi faccio vedere quando non ho tempo a casa di cucinare come li preparo. Questi wusser sono preparati con la ricetta di merano, con la ricetta tradizionale di merano, ovviamente sgrassata come vi ho appena detto. Pertanto la morte loro è la cottura per bollitura. A me piacciono molto di più bolliti rispetto ai wusser passati in padella, arrostiti, però ovviamente si possono anche fare arrostiti. Per non sporcare pentole e padelle utilizzo il microonde. Metto in un piatto con dell'acqua i wusser e li metto per due minuti al microonde. Sono bastati due minuti al microonde. A questo punto sono pronti per essere serviti. Guardate che carino l'acqua di bollitura è diventata rosa, così come è anche normale che nel sacchetto voi troviate un po' di liquido rosa, perché è il liquido della barbabietola naturale che inseriamo nella ricetta e che ci permette di arricchire questo wusser di carotenoidi, di vitamine, di folati che prevengono dalla barbabietola e soprattutto di non utilizzare nitrati e nitriti. Questo prodotto è anche un wusser senza glutine, perché siamo riusciti a trovare tutte le spezie certificate gluten free. Una golosità che a me piace tantissimo accompagnare con il ketchup Evolution, ma che sta anche molto bene con la maionese vegana di Cucina Evolution. Ricetta ideata insieme alla dottoressa Antonella Pelagatti. Due prodotti che ci raccontano altre storie. Il ketchup Evolution ci racconta i pomodori dell'Emilia Romagna. Abbiamo aggiunto lo zenzero anziché il sale, non c'è zucchero e tutta la cremosità è donata dalle fibre prebiotiche anziché da amidi che normalmente vengono aggiunti al ketchup. La maionese vegana è realizzata con latte di soia, senape e olio di girasole alto leico. Un prodotto che ci aiuta a tenere a bada il colesterolo e contiene tre volte meno grassi della tradizionale maionese. Lavoro soprattutto alla ricerca di materie prime di eccellenza, di tecniche diverse per fare il wuster. Tra l'altro anche la fumicatura non viene fatta direttamente sul fumo di legno per evitare la formazione di idrocarburi, policiclici aromatici, che normalmente sono cancerogeni. Quindi qui abbiamo un vero e proprio wuster che possiamo dire che faccia bene alla salute. basso contenuto di sale, basso contenuto di grassi, tutto il sapore della tradizione con le calorie del petto di pollo ma molte più sostanze benefiche, carotenoidi antiossidanti anche donati dal pomodoro concentrato di cui è ricco. Insomma, cosa aspettate a toccare il cielo con un dito con questo prodotto?